Spesso quattro pareti in una stanza danno più la dimensione di un mondo esterno che non un mondo esterno la possibilità di conoscere realmente quattro pareti di una stanza. Vabbè Luca dove stanno? I soldi di Luca dove stanno? Non ne posso prendere il caffè Gesù? Il papà di Luca dovrebbe arrivare un momento. Eh dovrebbe, potrebbe, farebbe. Io lo sbatto fuori veramente questa volta. Noi abbiamo grandi, grandi possibilità di pubblicare questo lavoro. Però tu adesso mi devi fare un favore, ok? Tu mi devi andare a terminare il fumetto prima dell'inizio dell'estate. Cinque, sei tavole, quindici giorni, eh? Siamo a posto. Io parlo con il mio socio, ci vediamo. Grazie a tutti. Entraînée par la foule qui s'élance et qui danse, Une folle farandole, je suis emportée au loin Et je crispe mes poings maudit sans la foule qui me vole l'homme Qu'elle m'avait donnée, Que je n'ai jamais retrouvée Qui mi volevaSSK Qui mi volevaSSk Qu'elle m'avait Qui mi volevaSSK Puisqu'elle m'avait